Apre le porte l'auditorium multimediale della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. La struttura è terminata ed è pronta ad ospitare eventi ed incontri. I lavori nel complesso parrocchiale di San Paolo Apostolo, nel quartiere dei Cavoni a Frosinone, si sono conclusi lo scorso mese di maggio. Siamo molto contenti finalmente di avere portato a termine questa struttura che aspettavo ormai da più di dieci anni di essere terminata. Questa è una struttura bella, mi sembra, architettonicamente pensata bene all'interno di questo complesso parrocchiale diocesano e siamo contenti perché penso che ne usufruirà non solo la diocesi ma anche la città e mi sembra che Frosinone abbia bisogno di luoghi come questo auditorium dove fare rappresentazioni, dove fare incontri eccetera, quindi siamo molto contenti per questo. Un'opera realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Lazio e la stessa diocesi. Siamo riusciti a concludere questa impresa, possiamo chiamarla, con il contributo della Regione Lazio e con ovviamente il contributo della diocesi che si è impegnata perché finalmente se arrivasse a un termine finalmente questa città e questo quartiere potesse godere di una struttura bella come penso sia alla fine risultata essere. La struttura è dotata di una sala polifunzionale con capienza di oltre 300 posti. L'auditorium potrà ospitare incontri non solo promossi dalla diocesi ma anche a soggetti pubblici e privati del territorio. Ovviamente noi l'abbiamo realizzata anche in vista di questo, insomma in vista anche del fatto che ne possa usufruire la città e le sue varie componenti e di questo siamo anche contenti. Insomma credo che la Chiesa lavora non solo per il proprio bene ma lavora per il bene di tutti e quindi anche di questa città che è fatta di credenti, di cristiani e anche di non credenti ma credo che noi siamo al servizio di tutti. Il taglio del nastro della nuova struttura ci sarà domenica alle 20.30.